Il potenza è inarrestabile anche nei momenti di difficoltà. Allo stadio Alfredo Viviani gli uomini di Ragno vincono 1-0 sulla Sarnese allo scadere grazie alla rete di Carlos Franza dopo un match segnato da un buon equilibrio per tutti i 90 minuti, sempre più vicino il traguardo della vittoria finale del girone H di Serie D con conseguente promozioni in Serie C. Eppure nel primo tempo il potenza appare piuttosto sterile, nonostante un campionato contrassegnato dai tanti gol siglati a partita, la Sarnese al cospetto della capolista tiene bene il campo e non concede nulla quasi agli uomini allenati da Ragno. Il primo tempo, reso insidioso dalla pioggia e dal vento, si conclude sullo 0-0. Nella ripresa il russo estremo difensore della Sarnese a mettersi in luce grazie a diverse parate decisive che non hanno permesso al potenza di passare in vantaggio. Da segnalare un secondo tempo in salita per il rosso-blu, costretti a rimanere in dieci uomini per l'espulsione rimediata da Guaita, per lui il rosso diretto. Quando ormai sembra tutto terminare sullo 0-0, ecco la rete di Carlos Franza che arriva al secondo dei cinque minuti di recupero. Un colpo di testa che non lascia scampo al russo e fa esplodere di gioia i 3.000 spettatori dell'Alfredo Viviani. Fischio finale, tre punti fondamentali per mantenere a più otto il distacco dalla Cavese. Tra sette quasi sicuramente sarà grande festa!